Buongiorno, oggi continuiamo i nostri video sull'analisi di dati di tipo genomico parlando di un altro step secondo me molto importante che è quella della visualizzazione degli allineamenti generalmente il tool più utilizzato in quest'ambito è utilizzare il genome browser di UCSE poi magari vi metto il link sulla descrizione del video che vi permette appunto di navigare lungo il genoma di riferimento che voi selezionate per esempio qui adesso selezionate hg38 ma potete selezionare a parte varie specie ma poi anche release particolari del genoma, per esempio hg19 eccetera potete caricare delle vostre track di geni quindi fate add custom track qua, aggiungete un file, uno di queste tipologie quindi bad, bad graph, big bad, gtf, quant'altro, bam, quello che sia oppure incollate qua secondo il tipo e formato che è e poi chiaramente lui ve le aggiunge qua questo è un metodo che però chiaramente presuppone intanto l'utilizzo di internet quindi caricare la traccia su internet questo può essere un pro e un contro a seconda dei punti di vista per esempio avete dei dati sensibili, non siete sicuri di volerli caricare su internet oppure avete dei dati molto grossi, di ban molto grossi e su internet magari è molto lento perché poi chiaramente qua si deve ricaricare un po' tutto ogni volta potete chiaramente utilizzare altre soluzioni l'idea comunque di questo tipo software è che voi visualizzate gli allineamenti selezionate una zona o un gene per esempio, non so, npm1 lui vi mette su quella zona lì potete aggiungere e modificare alcune delle track di default che sono anche qua oppure aggiungere delle vostre e visualizzare un po' quello che volete l'alternativa che io utilizzo spesso però chiaramente se avete bisogno, il consiglio vi do io è questo se avete bisogno di custom track particolari che trovate qua, utilizzate questo altrimenti se volete vedere solamente dei confronti di allineamento andare a spulciare le singole read e quant'altro io vi consiglio di utilizzare Integrgino Viewer che è un software VGV sviluppato da Broad Institute è basato su Java quindi presuppone che voi abbiate installato o che vi installa lui la versione compatibile di Java allora io ho fatto chiaramente ho installato prima Java perché tanto la utilizzo per altri scopi l'ho utilizzata come avevi dissi tempo fa con Brew infatti se voi fate Brew List dovreste vedere che io ho installato OpenJDK adesso vediamo se non lo avete fatto sempre con Brew fate Brew Install OpenJDK lui vi installa l'ultima versione disponibile vedete che io ho infatti OpenJDK e quindi sono a posto quindi una volta che uno ha già Java quello che vi consiglio se avete Mac o Windows utilizzate quella senza Java incluso quindi scaricate l'app e poi lo lanciate io questo già l'ho fatto l'ho lanciato qua adesso lo faccio vedere si presenta così adesso chiaramente qua non ho ancora caricato nulla però diciamo che vogliamo caricare qualche traccia qualche BAM di allineamento allora io ho per esempio dei BAM di HG19 seleziono allora intanto il genoma potete caricare anche il vostro genoma non c'è nessun problema adesso lo cerchiamo perché qua ce ne sono tantissimi eccolo qua HG19 lui se lo carica si carica anche sui RefSecGin per l'annotazione ecco qua una volta che ha caricato diciamo che vogliamo caricare un bed adesso vediamo se ne trovo uno non troppo grande perché questo è 13 giga 12 giga anche questo 8 giga vogliamo caricare un bed che io vi consiglio sempre prima di sortare con SoundTools c'è la funzione sort e vi sortate BAM il BAM chiaramente deve essere sempre indicizzato quando caricate sui GVI quindi l'indice lo fate con SoundTools Index e vi fate il BAM BY che è un file molto piccolo chiaramente poi qui che fate dovete caricare la traccia quindi fate l'URL se l'avete su un web server oppure se l'avete sul desktop ve lo caricate direttamente io vi consiglio di fare così se tanto avete un server locale caricate qui è molto veloce chiaramente dovete zoomare per vedere le read però io vi consiglio anche se lo avete di caricarci anche un BigWig se è dello stesso campione abbiamo preso il 48 replicato 2 stat 1 quindi questo credo stat 6 ok un BigWig che sono piccolini e aiutano per il coverage fatelo due RL anche qua poi vedete che qua vedete chiaramente questo è utile perché è il BigWig perché vedete un pochino il coverage da lontano cioè per il cromosoma quindi diciamo che vogliamo andare su una zona scoperta per esempio qua vediamo che ci sono dei buchi andiamo sul cromosoma 1 qui in mezzo zoomiamo e vedete che man mano vedete qui c'è una regione più piccola adesso ci avviciniamo adesso forse sta caricando ecco qua mi avvicino anche con qua adesso quando arrivate a finestre di 150kb ecco qua inizia a caricare le read eccole qua vedete questo è molto utile perché? perché qua vedete oltre alla traccia superiore il coverage lo vedete chiaramente sia sotto quando zoomate quindi in una visualizzazione diversa ma poi avete la possibilità di vedere come hanno mappato le read questo è molto utile in alcuni casi perché appunto se avete dei run per EDEN dovete vedere se il pair c'è se ci sono state delle mutazioni come è allineato qua vedete tutto per esempio io seleziono questa read qua vedete che qua mi segnala adesso posso anche zoomare molto avvicinarmi a vedere proprio al singolo nucleotide vedete vedete proprio che ci sono vi fa vedere le mutazioni che sono qua vedete che qua c'è stata una mutazione con un nucleotide A vi dà la stringa del sigla quindi vi dice che la read è la lunga 150 e ha mappato perfettamente in questi 150 perché è 150M e poi ci sono anche tutti gli altri score la qualità e quant'altro c'è il second pair vi dà l'orientation e poi appunto potete navigare sulle zone vedete anche per esempio qua sulla stessa riga chiaramente vi ci mette i pair quindi se c'è un pair questo è l'altro pair di prima vedete che anche questo ha mappato per 150 con il sigla perfettamente la qualità è 42 quindi insomma vedete un pochino qua tutte come allineano tutte le read chiaramente ci saranno le read con qualità peggiore altre con qualità migliore di varia lunghezza perché poi chiaramente ci possono essere le read che sono state trimmate però in ogni caso vedete che ci sono delle delle features che sono interessanti per esempio qua vedete che c'è un'inserzione vedete qua mi fa vedere quando c'è questo simbolo qua vuol dire che c'è un'inserzione che vi segnala c'è un'inserzione di una base di una C poi qua questa qua per esempio vedete questo ha sempre un 150m come sigla quindi mappa bene però ha tre in tre mutazioni quindi qua chiaramente queste le potete le potete questo è il first in pair quindi il primo la prima read vedete che qua pure c'è una dellezione quindi qua manca un pezzetto della read che poi continua quindi insomma è utile come strumento ed è il vantaggio che ha appunto è quello che vi fa vi permette di navigare lungo per tutti gli allineamenti tutto già ma su zone specifiche senza caricare online quindi in velocità potete anche chiaramente anche qui farvi dei bed caricarli come se fosse qua a read sec perché vedete qua su read sec adesso qua perché forse ho zoomato troppo però se andiamo su forse ho preso una zona andiamo su ecco vedete qua vi da i nomi dei geni quindi adesso qua sono su notch 2 questi sono gli esoni poi fa delle zone introniche e tutti gli esoni del genere quindi diciamo che vogliamo andare su questa zona qua che è tra le zone e l'introne vedete qua vedete che qua si notano chiaramente che ci sono delle read che mappano fino alla fine delle zone e altre che mappano anche in zone introniche chiaramente la maggioranza mapperanno su zone soniche però comunque sia c'è qualcosa anche che mappa su delle zone che non trascrivono e vedete questo è un gene abbastanza grande ed è coperto abbastanza quindi diciamo è molto molto utile e niente quindi questo è un software che vi consiglio sicuramente di utilizzare se avete a che fare con allineamenti e quant'altro per fare i BAM chiaramente li ottenete da come dire dagli allineamenti che fate con i vostri con i vostri software che possono essere botai bwa star quello che sia tutti vi danno il sum il sum lo convertite in BAM e poi lo indicizzate quindi potete poi caricarlo l'importante è che mettete il BAM e il BAY quindi il BAM e l'indice sullo stesso folder poi un'altra cosa importante è che chiaramente per fare i BWIG io utilizzo come software BAM Coverage mi pare si chiami sì BAM Coverage che vi permette di diciamo creare un un file BWIG da vedete BWIG da un BAM quindi prende un input un BAM e vi restituisce uno uno di questi due poi vi mando il link anche della della come si installa perché fa parte di un di un pacchetto di un pacchetto che è mi sembra python comunque adesso poi ve lo scrivo lo installate semplicemente e poi comunque dovrebbe esserci anche su BWIG spero non so se lo ho installato qua adesso vediamo se con BWIG non mi ricordo però su che vediamo di cosa fa parte BAM Coverage che suite era ah DeepTools vediamo se l'avevo installato da qua mi sembra che qua no forse l'avevo installato da da Python mi sembra perché qua non ce l'ho sì forse l'avevo installato da Python perché effettivamente install DeepTools la 3.5 sarà l'ultima installation ah sì si può installare o con Conda però qui non l'ho stato su Conda perché vedete che non ho attivato nulla l'ho installato sicuramente con PIP adesso non mi ricordo se ho fatto PIP3 non so se c'è list list ecco PIP3 list eccolo qua quindi fate sudo PIP3 install install DeepTools e niente poi lo installate senza problemi va bene ok spero di avervi detto tutto e alla prossima ciao 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 Grazie.